Mail e chiamate ai carabinieri. C'è una bomba? Oppure venite? C'è stata una rapina. Le pensava proprio tutte. Aggressioni, spaccio, furti. Negli ultimi mesi aveva inviato svariate mail ai carabinieri segnalando il verificarsi di gravi reati nella zona di Castelfranco Veneto e in un caso addirittura la presenza di un ordigno. Tutti allarmi che si sono rivelati falsi. Immediato ovviamente l'indagine da parte dei militari dell'arma che in poco tempo sono risalite all'autore delle mail. Si tratta di una ragazza appena maggiorenne. La diciottenne studentessa della zona è stata sentita dai carabinieri ma non ha fornito particolari giustificazioni per le fantasiose segnalazioni fatte per venire. La giovane ora rischia che a suo carico possa essere instaurato un procedimento penale per procurato allarme.